5 avvisi di garanzia sono stati notificati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alle emissioni e utilizzo di fatture false dai finanzieri del Gicolo del Nucleo di Polizia e Tributari del Comando Provinciale di Reggio Calabria. I militari hanno anche eseguito numerose perquisizioni a carico di commercialisti e noti imprenditori locali nell'ambito di un'inchiesta su fatture false per oltre un milione di euro relativa a sponsorizzazioni fasulle. Al centro delle indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica e della città calabrese dello Stretto, una nota società sportiva, la AS Real Reggio Tremulini Calcio 5, con sede al Reggio Calabria. La società in questione, inizialmente composta da 12 imprenditori e professionisti della città calabrese, è nota per essere riuscita in sole 6 stagioni ad arrivare alla Serie A partendo dalla Serie C. Nella stagione 2006-2007, oggetto di approfondimento da parte dei finanzieri, la squadra calabrese arrivò al quarto-ultimo posto e nella stagione 2007-2008 riuscì ad invertire un inesorabile declino, riuscendo a salvarsi al termine delle gare di play-out. Con l'operazione di oggi, le fiamme gialle ritengono di aver stretto il cerchio sul commercialista Roberto Emo, arrestato recentemente dal GICO di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione Astrea. Gli accertamenti di natura tributaria avrebbero evidenziato l'esistenza di un complesso sistema di fatturazioni false, mascherato dietro contratti fittizi di sponsorizzazione per la partecipazione ai dispendiosi campionati nazionali. Vincenzo Rispoli Vincenzo Rispoli era capo di un'organizzazione criminale legata alla cosca dei farao marincola di Ciron Marina, radicata nel territorio a cavallo tra le province di Varese e di Milano, che, attraverso rapine e distorsioni, si procurava denaro da reinvestire in imprese edili e attività commerciali. Nel corso dell'operazione dei carabinieri contro le infiltrazioni mafiose nel Varesotto erano già stati sequestrati beni per un valore di 33 milioni di euro. Veni immobili e conti correnti per un importo di 350 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di una coppia di coniugi di Crotone di 38 e 36 anni, ritenuti responsabili di una truffa ai danni della comunità europea. Il provvedimento è stato emesso dalla giudice delle indagini preliminari Paolo De Luca sulle richieste del sostituto procuratore della Repubblica di Crotone Francesco Carluccio. Secondo quanto accertato dai militari del Nucleo di Pulizia Tributaria e della Guardia di Finanza di Crotone, i due coniugi titolari di altrettante ditte individuali attive nella coltivazione di semi e culture protette, attraverso la fittizia produzione di documentazione fiscale e contabile, avrebbero ottenuto dalla Regione Calabria un contributo finalizzato al miglioramento delle strutture di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, finanziato dalla Feoga con il porro Calabria 2000-2006. All'enti in particolare la coppia avrebbe presentato fatture per operazioni inesistenti per oltre 700 mila euro emesse da imprenditori compiacenti in modo da ricontare un aumento dei costi in realtà mai sostenuti. Il governo eviti il punto di non ritorno dell'avvio dei cantieri e rigetti il progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. Sono le associazioni ambientaliste, FAI, Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, Associazione Mediterranea per la Natura, a premere affinché si fermi l'iter che porterebbe in seguito alla costruzione del ponte di Messina, evitando di dover pagare 56 milioni per il progetto esecutivo e 425 milioni per l'avvio anche di un solo cantiere. Gli ambientalisti che oggi al Senato hanno presentato un dossier di 245 pagine e con osservazione e contestazione del progetto scrivono una lettera indirizzata al premier Mario Monti affinché rigetti il piano. Nello specifico chiedono a Monti, in qualità di coordinatore del Cipe, che si consideri il progetto definitivo del ponte a proprio insindacabile giudizio, non meritevole di approvazione, senza che il contraente generale possa avanzare richieste per il riconoscimento di maggiori compensi e che l'astretto di Messina Spa receda dal contratto pagando solo le spese fino a quel momento sostenute dal General Contractor. Il progetto, redatto dall'astretto di Messina Spa, concessionaria interamente pubblica, e da Eurolink General Contractor, costa 66 milioni di euro di fondi pubblici per elaborati che, affermano le associazioni, risultano estremamente carenti sia dal punto di vista tecnico che dall'impatto ambientale ed idrogeologico, un progetto, concludono, che non può essere ritenuto definitivo. Come non essere completamente d'accordo con le associazioni ambientaliste? Il ponte sullo stretto è l'ottava meraviglia del mondo degli sprechi, sulla cui inutilità l'Italia dei valori non ha alcun dubbio. In tempi di crisi, buttare a mare 66 milioni di euro di fondi pubblici per un'opera che non sarà mai realizzata, è sbagliato. Lo dichiara il senatore Giampiero De Toni, capogruppo dell'Italia dei valori in Commissione Trasporti del Senato. Occorre fermare definitivamente il progetto, prosegue il senatore, finché sia in tempo e comunque prima che il Cipe approvi il progetto definitivo. Al contempo, occorre assicurare che in Calabria e in Sicilia siano effettuate quegli interventi strutturali sulla viabilità e sulla navigazione necessari allo sviluppo delle regioni e delle loro attività economiche. In linea, conclude De Toni, con i progetti dei corridoi europei definitivi nell'ambito dell'Unione.